Benvenuti su MyFootballGersey. Oggi vedremo insieme la prima maglia della Juventus per la prossima stagione, la 22-23, nella versione player, quella identica a quella dei calciatori. Dopo le strisce classiche della maglia 2021-22, Adidas torna a modernizzare le tradizionali righe bianconere con un partner a triangoli che dona un effetto zigzag. Proprio l'Allian Stadium è l'ispirazione del nuovo HomeKit 2022-2023, creato da Juventus e Adidas Football. In particolare, la divisa compone i colori più iconici della Juve, il bianco e il nero, utilizzando una grafica che parte dalla forma del triangolo, quella stessa figura geometrica che è parte integrante della struttura architettonica dello stadium. Il colletto è nero a girocollo, le strisce Adidas coprono solo le spalle. Lo sponsor Jeep non è più accompagnato dalla sigla 4XE. In compenso è attraversato da una serie di fulmini, un effetto che compare da mesi nella pubblicità delle auto elettriche. Cosa ne pensate? Nella mia classifica questa prende 3 stelle. Rappresenta un bello stacco rispetto al passato con queste figure geometriche che formano le strisce bianco e nede. La maglia è fatta veramente molto bene, incredibile che costi solamente 20 dollari, così esattamente come la vedete più spesi di spedizione. Vi ricordo che in descrizione trovate le istruzioni per poter ordinare la maglia, che peraltro a me è arrivata in 4 settimane dall'ordine alla consiglia. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, spero che possiate regalare un like e iscrivervi al canale per vedere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione player o authentic. Io sono alto 1,75 m e peso 80 kg.